Si è inaugurata oggi ad Albino la nuova sede provinciale del Partito Italia Nuova. Con noi abbiamo il Presidente Armando Siri, al quale chiediamo quali gli obiettivi di questo partito. Il primo obiettivo è riflettere e pensare che la vecchia Costituzione del 48 ha fatto il suo tempo ed è giusto perché l'Italia ne ha bisogno, se lo merita e ne ha diritto, di avere una nuova Costituzione che parli al presente e guardi verso il futuro e non pensi più al passato. Il secondo punto è un nuovo modello fiscale che di fatto sostituisca il modello progressivo che dice più ti impegni, più lavori, più hai volontà, più hai desiderio e più lo Stato ti punisce e introdurre invece un sistema proporzionale dove tutti pagano il 15% con una tassa fissa unica a 3.000 euro l'anno con però gli stipendi, le pensioni e tutti gli introiti erogati all'ordo, quindi non più con le trattenute fatte dallo Stato mettendo le tasche nelle mani delle persone senza chiedere il permesso. Il terzo punto è un modello di Stato dove la sovranità appartenga al popolo, punto. E quindi questo vuol dire che il popolo la delega ad una persona che si sceglie un team per fare poche cose molto chiare, vere nella realtà e corrispondere ai bisogni dei cittadini con un contratto e un patto chiarissimo però che dice che lo Stato non deve entrare nella vita, nell'esistenza di ciascuno di noi perché la vita e l'esistenza di ciascuno è e deve essere vissuta dalla persona che la viva. Come mai questa sede provinciale ad Albino? La sede provinciale di Bergamo ad Albino perché tutte le cose come anche le nuove idee, i nuovi punti di vista nascono là dove ci sono le persone che le fanno crescere, le fanno nascere, quindi ad Albino e in generale in tutta la Bergamasca c'è stata questa scelta e quindi noi abbiamo fatto la sede provinciale qui dove c'è il nucleo che ha promosso il PIN, Partito Italia Nuova, per tutti i bergamaschi e per tutta la provincia. Ad Andrea Mistri che è responsabile provinciale della sede Sita d'Albino in via Maggini 4 chiediamo di indicare quali prospettive intende proporre questo partito ai cittadini. Buonasera, sono Andrea Mistri, qui abbiamo aperto la sede ad Albino, vogliamo tenere un gruppo di persone, far conoscere un nuovo punto di vista, abbiamo messo a disposizione questo spazio proprio per portare i cittadini qui da noi per conoscerci, è un modo anche per incontrarci, per confrontarci, per raccontare le problematiche della valle.